Assessore Proto, questa conferenza stampa stamattina per i nuovi assunti al Comune, quanti sono? Sono 35 e stiamo procedendo per come è concordato e per come è esposto nel piano terrenale del far bisogno del personale. Avevamo comunicato che l'ente aveva necessità impellente di procedere con le assunzioni, c'erano le possibilità e ci sono le possibilità economiche, il quadro normativo ce lo consente e quindi era giusto procedere con determinazione su questa strada perché bisogna riportare l'organico dell'ente comunale in condizioni anche numeriche oltre che qualitative, in condizioni almeno sufficienti per poter offrire ai cittadini servizi essenziali. A quando risale questo concorso? Questi sono del 2011, stiamo procedendo con lo scorrimento di due graduatorie D e C, figure amministrative, graduatorie che andrebbero in scadenza naturale l'anno prossimo, anzi quest'anno a settembre uno e l'anno prossimo l'altro e che quindi è un'opportunità, rappresenta un'opportunità per l'ente per procedere con delle assunzioni immediate. E quindi abbiamo un piano di far bisogno che è composito, formato da scorrimento di graduatorie, da nuovi concorsi i quali sono in fase di redazione e ritengo che nei prossimi mesi già il Comune potrà procedere con almeno un paio di bandi di concorsi. Sindaco, questa conferenza stampa è per parlare delle nuove assunzioni, sono 35 ma ce ne saranno altre nei prossimi mesi? Sì, assolutamente, chiamiamola così la prima infornata, ma sicuramente ci sono le altre assunzioni, bisognerà fare il concorso immediatamente per i nuovi vigili urbani, abbiamo assunto già il nuovo comandante, quindi è una continua evoluzione per ringiovanire, far riprendere quella che abbiamo sempre detto, la macchina amministrativa comunale che ha bisogno di risorse nuove, di nuove energie per poter camminare, camminare pure celermente. Lei ritiene che ci siano le condizioni perché i giovani possano rimanere a Crotone? Beh, questa è una domanda un po' più difficile, sicuramente questo è un segnale che stiamo dando, è un segnale forte che ho voluto dare e che continuerò a dare anche negli prossimi anni fino alla fine del mio mandato, che sarebbe il 2021, le assunzioni sono già programmate per l'anno prossimo e per il 2021, i bandi saranno fatti in quest'anno proprio per dare la possibilità di subentrare, vedremo con quota 100 quanti chiederanno il prepensionamento e in base al prepensionamento noi faremo ancora di più scorrere le graduatorie e assumere ragazzi che potranno entrare nel comune e quindi dare loro intanto una speranza. Maglio, inizia un percorso nuovo per te. Sì, dopo dieci anni da quando vennero banditi i concorsi al comune di Crotone finalmente la macchina amministrativa si arricchisce di nuove forze per mandare avanti l'amministrazione della città. In quale settore sei inserito tu? Io sono un settore avvocatura, essendo avvocato era una scelta chiaramente facile, ma molti ragazzi ho visto che sono in tutti i settori strategici del comune, dei lavori pubblici e servizi demografici all'ufficio casa. Quindi ci possiamo aspettare un cambio di passo? Sicuramente non solo numericamente, ma come forze giovani potranno sicuramente svecchiare un po' la macchina amministrativa.